Opportunità sprecata, un'altra delusione. L'Adriatico il Ponte d'Era pareggia nel finale senza rubare nulla. Dopo il gioiello di Clemenza, Biancazzurri incapaci di creare i presupposti per chiuderla. Negli ultimi 30 minuti il Pescara smette di giocare zero occasioni. Incoraggia i Toscani che prendono gradualmente campo e puniscono l'undici di Auteria, tre minuti dall'epilogo. Nella circostanza una sciagurata gestione della palla. Quindi la punizione è evitabilissima da cui nasce l'1-1, con altri errori. La linea scappa male, retroguardia troppo schiacciata, sponda di Baka Yoko e prodezza di Mutton, subentrato a Magnaghi. Il Ponte d'Era si è difeso con ordine, senza erigere barricate, soprattutto senza rinunciare ad offendere. Non ha rubato nulla l'undici ospite, certo con le sue armi, quelle che gli hanno consentito di conquistare tra andate e ritorno 4 punti su 6. Contro i Biancazzuri hanno fatto meglio solo Modena e Reggiana, la cui cilindrata però è decisamente diversa. E stiamo parlando di una squadra di metà classifica, per inciso in chiara flessione, due punti nelle ultime cinque. Le analisi post-gara del tipo gli avversari hanno pensato solo a perdere tempo, a spezzettare il gioco, eccetera. E altre cose già sentite, trite e ritrite, per questo stucchevoli, raccontano sostanzialmente realtà parallele. Non tutti gli avversari sono uguali, le caratteristiche della Ponte d'Era erano e sono ben note. Dal resto all'andata, in terra toscana, il Delfino ha toccato il punto più basso. Era una gara da vincere, il Pescara non ci è riuscito, punto. Possibile che la colpa sia sempre soltanto dei calciatori. Da parte di Auteri, mai un'autocritica dopo 34 partite, questo sì, ci sorprende e non poco. Si tratta del settimo pareggio all'Adriatico. Tanti punti persi contro formazioni abbordabili. Viterbese, Vispesaro, Teramo, Lucchese, Carrarese e appunto Ponte d'Era, che come ricordato ha strappato 4 punti su 6 ai Bianchezzurri. In trasferta soprattutto la pessima prova di fermo contro una squadra ridotta in 10 per l'intero secondo tempo. Insomma, la stagione resta deludente, ma c'è ancora la concreta possibilità di darle un senso centrando almeno il terzo posto.